Sempre meno frutta e verdura nelle tavole dei padovani per colpa dell'aumento dei prezzi. Secondo le stime di Coldiretti, nel 2022 gli acquisti di ortaggi crollano in quantità dell'11% rispetto allo scorso anno. Il consumo di frutta e verdura delle famiglie nel primo semestre del 2022 si è attestato a 2,6 milioni di tonnellate in quantità. C'è stato un mix esplosivo da un lato, l'aumento di costi di produzione e l'aumento di costi energetici. Dall'altro una minore produzione data da un'annata siccitosa e con molti eventi calamitosi. Questo ha fatto sì che nel carello dei nostri consumatori la spesa alimentare sia aumentata. Purtroppo ne ha fatto spese la frutta e la verdura, che sono elementi basilari della nostra dieta mediterranea, con un calo medio dell'11%, con punte 17-16 sulle zucchine e un 3-4 sull'insalata. A pesare è stato l'aumento dei prezzi che sono rincarati al dettaglio per gli ortaggi del 12,2% e per la frutta dell'8,5%. Siccità, ma anche caro energia che stanno mettendo in ginocchio le aziende del settore primario. Per le imprese agricole, per chi produce, la situazione non è erosia, perché purtroppo, due dati solo per far capire, 160-170% in più dei concimi, un 130-140% in più del gasolio, per non parlare dell'energia, fa sì che molti di queste hanno problemi dal punto di vista della redditorialità e quindi stimiamo che un'azienda su 10 sarà destinata a chiudere e una su tre avrà per il momento dei problemi economici dal punto di vista della redditorialità. Un circolo vizioso che avrà un impatto devastante per l'economia, ma anche per la salute. Il taglio dei consumi di frutta e verdura nel tempo, infatti, non farà di certo bene alle persone se si considera che è di 400 grammi per persona la soglia minima di frutta e verdura fresca da mangiare più volte al giorno, raccomandato dal Consiglio dell'Organizzazione Mondiale della Sanità per una dieta sana. Per questo, col Diretti Padova, si appella alla politica per mettere in campo azioni concrete. Se non si farà un qualcosa di tangibile, di concreto dal punto di vista energetico, e quindi questo vuol dire non risolvere il problema a livello italiano, ma parlarne a livello europeo, non solo l'agricoltura, ma tutti i settori imprenditoriali del nostro territorio andranno in sofferenza come le nostre famiglie, chi nel piccolo, chi nel tanto, per quello che succederà nei prossimi mesi.